Sì, buonasera a tutti. Io sono Enrico Stefano, magari qualcuno di voi già mi conosce per l'esperienza pregressa in Campidoglio insieme a Marcello, Daniele e Virginia. Proprio questa esperienza mi ha consentito in questi due anni e mezzo di vedere da vicino come la nostra città non è governata, non è amministrata. Come i soldi delle nostre tasse sono buttati letteralmente dalla finestra, i soldi delle tasse dei miei genitori che mi hanno mandato all'università, i soldi delle tasse dei miei nonni che hanno lavorato una vita. Quindi noi ci troviamo davanti una sfida importantissima, fondamentale. Dovremo ribaltare completamente il paradigma della nostra città. Immagino, magari alcuni di voi sapranno, un tema che ho seguito da vicino è quello dei trasporti. Proprio da questo punto di vista è necessario un cambiamento radicale, un cambiamento strutturale, perché un trasporto pubblico che funziona vuol dire anche un po' l'indice della democrazia, della civiltà di una capitale come Roma, di uno Stato. E proprio appunto dai trasporti bisogna intervenire in maniera energica, in maniera assolutamente decisa. Non è più tollerabile che i ragazzi la mattina arrivino in ritardo a scuola perché l'ennesimo treno della linea B si è rotto, l'ennesimo treno della Roma Lido magari è rimasto nei depositi, l'ennesimo autobus si è guastato perché in questi anni magari in Atac non si investiva in manutenzione ma si investiva in qualcos'altro. Quindi ecco, dobbiamo tutti quanti renderci anche protagonisti della sfida che avremo davanti. Noi dal nostro punto di vista metteremo al centro la squadra, sarà fondamentale, non ci sarà una persona sola al comando, ma saremo una squadra che è l'aspetto più importante. Oggi vedete sei di noi che sono tutti e sei accanto e che tutti e sei si sono messi a disposizione. Faccio ancora un esempio sul tema dei trasporti, sul programma che stiamo sviluppando. Ci hanno lavorato tantissime persone, tantissimi attivisti, tantissimi simpatizzanti, persone che hanno messo a disposizione degli altri le loro competenze ovviamente a titolo completamente gratuito. Ci abbiamo lavorato a tutti i livelli istituzionali, dai municipi al Parlamento europeo. Quindi io non mi dilungo di più, vi ringrazio per l'attenzione, sono ovviamente felice e onorato di essere qui.